Andrà in scena domenica 13 ottobre dalle 10 alle 17 la prima festa dei quartieri a Bassano, una festa di giochi che si terrà al centro giovanile nel quartiere del centro storico. Organizzata dall'associazione di volontariato YES dai quartieri con il patrocinio del comune, vedrà partecipare squadre di quartieri diversi, composte da un minimo di 20 giocatori di tutte le età. Ogni squadra avrà la sua maglietta di colore diverso. Si sono iscritti finora alla prima festa dei quartieri Marnian, Angarano, San Vito, Merlo, Santa Croce, Centro Storico, Sant'Eusebio, San Fortunato e quartieri solidali. Questa è una bella occasione per stare tutti quanti insieme, divertirsi, sarà una sorta di giochi senza frontiere. Hanno aderito un bel numero di quartieri e contiamo l'anno prossimo di replicare possibilmente con tutti e 22 i quartieri. La location della festa di quartiere, intesa come momento di aggregazione nel senso di comunità e del volontariato, sarà ogni anno diversa e itinerante. In programma anche animazione per bambini e la possibilità di pranzare in loco.